Pivato, venga con me, sotto braccio, attraversiamo lo studio, facciamo una passeggiata, perché adesso dobbiamo occuparci di un altro aspetto. Lei gioca a paddle? No. Gioca a pallone? No. Allora che c'è venuto a fare? Io ho rinunciato a qualunque sport che possa... Perché lei sa giustamente quali possono essere i rischi. Buongiorno alla dottoressa Simona Mecchi, prego si accomodi a fianco alla sua collega, perché adesso parliamo di quella maledetta partita che si fa sulla sabbia, di quando vuoi parare e pensi di essere buffone, cadi con la mano e ti storci il dito e allora lì sono problemi. L'insaccamento, quello che chiamiamo l'insaccamento. L'insaccamento. E se generalmente l'insaccamento viene considerato un trauma di banale entità tipico, è il racconto di chi lo fa, e ti dice, ah sì, poi me lo sono tirato e me lo sono rimesso a posto. In realtà questo, perché avvenga, produce una serie di lesioni per avere un insaccamento. Io devo far sì che l'articolazione si rompa nella sua parte dei tessuti molli, quindi la sua capsula e i suoi legamenti e il dito esca dalla sua sede. Questa cosa qua, se non gestita in maniera corretta, porta a degli esiti, che sono degli esiti importanti, soprattutto in termini di riduzione del movimento e in tempi di guarigione. Rimani con il dito bloccato. Rimani col dito più gonfio, che ti fa male, eccetera. Se lei guarda i giocatori di professionisti di pallavolo e di basket, vede che hanno tutte le nocche un pochettino più grosse. Esiti di tutti questi traumi ripetuti che sono occorsi. La mano credo che sia molto complessa, più o meno del ginocchio come articolazione. È più del ginocchio, perché sono 27 ossa, ci sono più di 100 legamenti, ci sono 27 articolazioni, ci sono tutti i vasi, tutti i nervi e queste strutture lavorano tutte in uno spazio molto piccolino, perfettamente coordinate come un'orchestra e quindi un danno, anche piccolo, ad una di quelle strutture determina poi di fatto una diminuzione della funzione di tutto l'organo, che per definizione è un organo di funzione. Te le faccio i miei complimenti, perché l'ha raccontata in una maniera tale molto avvincente. I casi che arrivano in ospedale, i più frequenti, quali sono? Ma allora, d'estate il problema è che non è che si facciano sport che d'inverno non vengono fatti, il problema è che li si fanno a livello più... ci si sente più forti, ci si sente più performanti e chi affronta quegli sport generalmente sono turisti che durante l'anno non praticano quell'attività, sono dei veri principianti, quindi non hanno nessuna base di riscaldamento, non hanno nessuna base di raffreddamento e quindi con maggior frequenza possono andare incontro a questo tipo di... E poi c'è la maledetta sdraio che è tanto bella da vedere, ma lì lo schiacciamento... Sì, entriamo in una cosa abbastanza cruenta, la citiamo solo perché il dito che rimane chiuso dentro l'asdraio è un problema, può succedere, se succede si consiglia sicuramente di andare in un pronto soccorso. Per non parlare della memorabile sequenza di Fantozzi e di aver piantato la tenda. Bravissimo, bravissimo. E quindi, cara esimia dottoressa Vecchi, allora abbiamo il nostro figurante, non sappiamo se intrattenga una relazione amorosa con la nostra Giovanna, ma ormai siete sempre voi due che vi fate male, quindi uniti sul lavoro potreste essere anche uniti nella vita, dico con affetto. Prego, si sposti qui. Lei è fisioterapista della mano del reparto dell'ospedale Humanitas di Rozzano. Eccoci qua. Come recuperare la funzione in caso di distorsione di un dito o frattura del polso, abbiamo anche dei tutori ad hoc. Allora, nell'ambito della... Scusi un attimo, la interrompo. Pochi istanti fa Lavarini ci aveva dato notizia di questo esondamento con delle persone di cui non si conosceva la sorte. Sappiate che i cinque dispersi sono stati ritrovati. E' questa, come dire, è un apostroforosa in questa giornata. I dispersi dell'esondamento sono stati ritrovati. Grazie, torniamo a lei. Ottima notizia. Allora, parlavamo poco fa dei traumi distorsivi alle dita che spesso accadono durante le partite di bici volley. Questo tipo di trattamenti deve essere gestito velocemente con l'utilizzo di strumenti che si chiamano tutori. Questo è un tutore che viene applicato nei primi sette giorni dopo il trauma e consente al dito di mantenere una posizione di scarico e far passare le situazioni di dolore. Passati sette giorni, questo tutore viene sostituito da quest'altro piccolo tutore che è una sorta di anello. Grazie al materiale termoplastico noi riusciamo a rendere il trattamento adattato al paziente, confortevole e più veloce possibile. Questo anello permette il recupero del movimento di flessione, quindi il paziente può chiudere il dito. Salvatore, senti dolore? Un pochino. Ma proteggi i movimenti di perestensione e di deviazione laterale che sono quelli più pericolosi per il trauma distorsivo. Trascorsi tre settimane dal trattamento iniziale è possibile incominciare un programma di rinforzo con l'ausilio di elementi quali plastiline o elastici che a differenza della famosa pallina da tennis riescono a rinforzare senza andare a sovraccaricare i motori delicati della mano. Prova a chiudere, quindi si propongono esercizi specifici. Prova a fare questo tipo di movimento. Mi viene dolore anche se non c'è, però, perché penso a quanto possa essere delicata, come ricordava il professore a Pivato, l'articolazione della mano. Tutti gli esercizi devono essere svolte al di sotto della soglia di tolleranza del paziente e senza provocare dolore. Altro tipo di lavoro che si può fare è un lavoro con degli elastici nei quali si propongono movimenti specifici per il recupero della flessione oppure per il recupero lasci pure, grazie, dell'estensione. Si mette in questo modo, estenda. Il dito riesce a lavorare in maniera selettiva. Ok. Possiamo tornare al nostro posto e vorrei ricordare però l'esimio del professor Pivato che non di solo sport vive l'uomo ma anche, come dire, di movimenti al computer. Ormai voi avete anche una parte abbastanza pallosetta non solo sul campo ma dovete poi fare rapporti e quindi il mouse, il tunnel carpale. Sì, non si può non parlare del tunnel carpale. È sempre il nostro protagonista. Il 70% dei pazienti che si rivolgono a noi hanno... Anche perché ormai tutti quanti con il telefonino trititardà, trititardà. Allora, il tunnel carpale detto brevemente è l'infiammazione e lo scacciamento del nervo mediano che passa dentro a un canale. È questa struttura gialla che vedete che passa dal polso alla mano. Lui passa dentro questo canale insieme ai tendini flessori che sono quelli che fanno piegare le dita. I tendini si infiammano diventano più grossi e si schiacciano il nervo che passa in questo canale che non ha delle pareti espansibili. Questo fa sì che arriva meno sangue al nervo e quindi dal punto di compressione a valle abbiamo le formiche, il classico formicolio che è quello che ci succede quando accavaliamo le gambe e si formicola il piede. Nei casi in cui questa cosa perduri è necessario fare un piccolo intervento in cui per via endoscopica quindi solo con un taglietto alla base del pollice fatto in anestesia locale dura più o meno un minuto si apre questo legamento a questo punto il canale si apre e il nervo torna a respirare. Tempi di ripresa? Immediati, dal giorno dopo il paziente può tornare a fare tutto quello che faceva il giorno prima. E si può evitare l'intervento? Nei casi iniziali quando l'esame specifico per vedere il tunnel carpale che si chiama elettromiografia dice che il nervo non è particolarmente sofferente si può provare con un trattamento di tipo conservativo che è di appannaggio del fisioterapista della mano. Bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi spero riusciate a trovare un tassi per tornare alla stazione e guadagnare il vostro meritato riposo. In televisione gli argomenti si mescono lo sapete molto bene lo avete visto dal barbecue secondo voi adesso di che cosa parliamo? Di una cosa leggera di una cosa allegra giusto? Giusto i traumi del ginocchio Ah che bello grazie